musica 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 ma c'è 5 piani ma iini ma aspetta giù magari all'ultimo la vogliamo su e poi giù la vogliamo che cazzo cos'è tipo un 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 e non sotto quel porto e non si chiudono oddio cosa è vero anche le icone beh beh è tipico come ma il 3 è bloccato non ci cammina ci sta il 3 è bloccato mi sa meno uno devo rimanere acceso scusa siamo due l'indicatore l'indicatore è lì il doppio indicatore del display cazzo ok mi chiama qua zio pera non è uscito ma è moda e te è un muore ma il livellamento qua faccio prima a dormire c'è guarda è vero ti posso comandare ti posso comandare hai ragione dell'indicatore le 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 le